Forza e adesso li ascoltiamo e voi guardate perché anche questi gesti della danza sono la priera, ho detto alle ragazzine, avete lanciato altre volte, magari per fare il saggio, ma stasera danziamo per Gesù. No, è la priera. E allora li ascoltiamo guardando questa coreografia che torte dal fondo. No, è la priera. 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 ci teniamo l'uomo che abbiamo bisogno di raccordarci ci teniamo l'uomo stringete questa mano è una persona che per caso è capitata e diciamo la preghiera di Gesù adagio, adagio Padre nostro e serenite i figli fiazzate la sanità della tua morte preghiere i tuoi regni salvare la tua volontà come in sé che sopra la tua vita di terra sbagliare il suo figlio sbagliare la tua morte di nata e preghiere i tuoi regni sbagliare i tuoi regni come in cui mi riavano i tuoi regni e non ci riavano la tua vita di nata e non ci riavano la tua vita di nata e non ci riavano la tua vita di nata prima della benedizione il don Marcello di lettura ci dà qualche avviso il vero regista della benedizione la benedizione è stato lui e questo è stato il prossimo d'attore ci dice qualcosa e poi mi do la benedizione il canto e facciamo la coreografia e questo è stato il mio d'attore e non è stato il mio d'attore non è stato il mio d'attore ci siamo parlato tanto abbiamo parlato tanto e abbiamo parlato il 10 ma ho paura che per la fame si svegli noi non svegliamo questa sera perchè uscendo ci stanno confendo quindi due caldarroste due castagne che devono proprio bene quindi uscendo troverete un po' di caldarroste e i ragazzi hanno preparato le ringraziamo e ci fermiamo per questo momento anche così di fraternità e ci diamo appuntamento il 15 di dicembre a tutti grazie grazie amore il nostro aiuto è nel nome del Signore e la benedizione di Dio di Potente Padre Figlio e Spirito Santo riscenda su di voi e con voi rimanga sempre amè siate felici che potete sono qui all'odato e con voi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.